Musica Più che in corso direi che questo è un percorso musicale che accompagna ogni partecipante alla scoperta e allo sviluppo della propria identità artistica originale e unica al compositore e al cantautore, all'interprete vocale e al gruppo musicale che abbiano già una buona tecnica di base portare ad una piena coscienza di se stessi come artisti musicali concreti questo può avvenire solo quando si trova la chiave per lasciare che la propria creatività si sviluppi in armonia con la persona che si è Il percorso ha inizio dopo aver soverato una lezione nella quale verrà richiesta la presentazione di un brano edito o inedito con base o propria strumentazione In seguito, nei primi sette mesi gli incontri sanno individuali una volta alla settimana e della durata di un'ora nell'ultimo mese si avranno quattro incontri collettivi di due ore ciascuna Ascoltando come vi esprimete attraverso la musica individueremo le vostre caratteristiche personali ed istintive per poi indirizzarvi verso un progetto musicale che sia vostra immagine e somiglianza Vedrete come da una semplice melodia possa nascere una splendida canzone come un testo possa trovare la sua dimensione in un'armonia che si giuce addosso La vostra creatività, grazie all'uso degli strumenti informatici che useremo in studio sarà continuamente stimolata Alla fine di questo percorso avremo lavorato assieme alla realizzazione di studio di due grani inediti che saranno il vostro obiettivo da viso Questi due inediti possono essere stati sviluppati sia partendo da un vostro testo e melodio che vi interrò ad allangere nel pezzo completo che dà una sola composizione musicale prima di parole Il testo ci verrà dato dagli autori che collaborano qui Di certo saranno due brani che metteranno in luce sia le vostre capacità tecniche ed espressive che la vostra identità artistica unica e per questo originale Io Francesco Corvino vi aspetto alla Milo Music School Io Francesco Corvino vi aspetto alla Milo Music School